Già che il primo consiglio che c'è ha detto che nella passata legislativa del 2014 che cosa sono fatto? Una convenzione. Una convenzione? Sì, sono stati fatti dei lavori. E poi? E poi la convenzione è stata, quindi non è stata poi gestata. Ma la convenzione tra chi non prende o non lo so? Tra il sindaco, la loro sindaco e la loro presidente della provincia. Oh, e adesso l'ha fatto davanti? Non è stata resa attuativa questa, perché la provincia non ha completato i lavori che stavano facendo. Ma per caso c'è un progetto di lavoro.